Si alzano le temperature, si alzano i rischi legati all'AFA e ai colpi di calore. Un contesto sanitario estivo che le farmacie comunali di Pesaro e Gabicemare gestite da Aspes sono pronte ad affrontare offrendo un servizio di prossimità alla cittadinanza all'insegna di sconti e consigli utili. Un'azione di prevenzione che aderisce alla campagna Proteggiamoci dal Caldo promossa dal Ministero della Salute. Mettere a disposizione dei nostri utenti, che sono gli utenti delle farmacie comunali della città di Pesaro e della città di Gabicemare, dei prodotti a marchio farmacie comunali.it a prezzi scontati che possono in qualche modo affievolire l'effetto dei picchi del caldo, di calore che purtroppo siamo costretti ad affrontare. e lo facciamo scontando questi prodotti del 20%, dando la possibilità anche a tutti gli utenti che in qualche modo si rivolgono alle nostre farmacie sul territorio in cui operiamo di poter utilizzare i prodotti stessi. Noi siamo farmacie comunali e non dimentichiamo mai la finalità con cui tanti anni fa i comuni decisero di fondare le farmacie stesse, che sono finalità di tipo sociale. In questa situazione, in questo momento, noi vogliamo proprio venire incontro, aderendo alla campagna che il Ministero della Salute ha, come tutti gli anni, promosso. Al tempo stesso abbiamo anche altri prodotti che riguardano la protezione della pelle, quindi di prevenzione, che in qualche modo sconteremo ugualmente proprio per dare la possibilità a tutti di avere prodotti di grande qualità a prezzi scontati, perseguendo la finalità sociale per cui siamo nati. Non solo agevolazioni su prodotti specifici, le stesse farmacie forniranno anche una serie di consigli utili per affrontare le criticità sanitarie legate al periodo estivo. Il decalogo è il decalogo ministeriale che si chiama proteggiamoci dal caldo con le dieci regole basse e fondamentali, quelle che tutti dovrebbero conoscere e osservare, quindi evitare le ore più calde, coprire il capo, non fare sport durante queste ore, bere almeno un litro e mezzo, due litri d'acqua al giorno, reidratarsi non solo bevendo ma anche utilizzando dei prodotti a base di potassio e magnesio che sono quegli elementi che si perdono con la sudorazione. Noi in base a questa serie di necessità che la popolazione ve in conto abbiamo realizzato una serie di prodotti a base di sali minerali ma non solo, sono anche privi di zuccheri quindi per i diabetici, di glutine, quindi per i celiaci e anche di lattosio perché è intollerante al latte. Inoltre il caldo intenso può provocare anche crampi a livello muscolare e per questo abbiamo fatto il magnesio, il magnesio che è specifico nel rilasciare appunto le fibre muscolari, ci agisce su questo. In più come dice il decalogo bisogna stare attenti anche agli animali e ai bambini, non lasciarli in macchina per lungo tempo nelle ore più calde, quindi sono le regole di buon senso però poi pratiche nel farlo tutti i giorni. Fra i consigli di base le linee d'azione con cui affrontare i colpi di calore. Il colpo di calore che è frequente, bisogna sicuramente portare questa pressione in una zona d'ombra, probabilmente sollevargli le gambe, far sì che ci sia un certo ritorno venoso, non tirargli un secchio d'acqua fredda addosso altrimenti si va incontro di una congestione, farlo bere gradatamente e poi dopo se il farmacista in misura della pressione intravede che la pressione è calata o che la pressione non sta bene, chiamare sicuramente il 118 che è in questo caso il servizio medico che interviene prontamente nel portare eventuali cure o soccorre alla persona.